Allora, cari amici e cari amiche, soprattutto che avete scelto VeraTV, grazie intanto di esserci, io sono Paolo Amato e questo è Donne Glamour, mi dicono dalla regia. Bene, mi fa piacere, perché i Glamour? Perché avremo a che fare con il mondo legato alla donna innanzitutto, alla moda, all'avvenenza e al fascino. A tal proposito, questa sera parleremo di queste due ragazze che ci hanno scritto per partecipare al nostro concorso e cercare di studiarle un pochino tra loro, scoprire le loro peculiarità, perché no, le loro cose più intime e segrete, sempre con un tocco di leggerezza e di savoir faire che praticamente mostra questo nostro contenuto, questo contenitore dove espanderemo i desideri di queste ragazze di partecipare a questo programma. Intanto vi do il benvenuto, buona visione, andiamo con la prima ragazza.